bella a tutti forniters benvenuti e bentrovati sul leon tube in questo video andiamo a vedere come fare l'incarico sconfiggi intagliatore ultima qui abbiamo subito trovato se scendete praticamente qui dicevamo c'è un bel forziere adesso prima la devo svignare un attimo perché mi ha dato un bel colpo intanto facciamo il shield ok vediamo un po' dov'è oh spara zucca andiamo a rifarlo è utile farlo ci siamo quasi eh quasi 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 eccolo oh fa anche non è bastato ok l'abbiamo eliminato prendiamo le sue armi mitiche zucca solo un colpo ok perfetto avete visto come fare qui se atterrate c'è subito quella cassa diciamo degli avengers qui c'è tutto il resto quindi abbastanza semplice molto bello questo posto come l'hanno rifatto ambientato a tema halloween con tutto questo grind da fare mi raccomando ragazzi un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti